Grazie a tutti, sono Matteo Giordano, ho frequentato il liceo classico Setti-Carraro dal 2012 al 2017. Ciao a tutti, io sono Laura Raimondi e sono un'ex allieva dell'educandato statale Emanuela Setti-Carraro, che comunque per me rimane a collegio delle fanciorde. Ciao, sono Beatrice Casati, ho 20 anni e mi sono diplomata nel migliore 2019 presso il liceo classico Setti-Carraro. Ciao, sono Benedetta Mazzitelli. Ciao ragazzi, sono Mattia Cantoni, anch'io ex studente Setti-Carraro. Ciao ragazzi, io sono Francesca Sacchi, sono un'ex studentessa del Setti-Carraro. Ciao a tutti, mi chiamo Anna Sozzani, sono un'ex studentessa del liceo classico presso l'educandato statale Emanuela Setti-Carraro dalla chiesa. Grazie, mi chiamo Federico Marin, sono un'ex studente della Setti-Carraro. Sono Martino Dondi, ho 24 anni e ho frequentato il liceo classico Setti-Carraro tra il 2010 e il 2015. Ciao ragazzi, io sono Francesco Meazza, un ex studente del liceo Setti-Carraro, ho fatto il classico. Credo che se fossi costretto a riassumere tutta quella mia esperienza in due parole, utilizzerei le due parole spirito critico. E cioè, sono profondamente convinto che in un momento come questo, forse mai come oggi, ci sia bisogno di un liceo, un percorso formativo nelle scuole superiori, che motivi e stimoli i ragazzi a sviluppare un'indipendenza di pensiero, nell'autonomia, nell'interpretazione dei fatti che li circondano. E questa, secondo me, è davvero la forza, il punto di forza del liceo classico della Setti-Carraro. Nel corso di questi cinque anni trascorsi alla Setti-Carraro, sono stata supportata e accompagnata alla scoperta di talenti, passioni, aspetti di me che poco conoscevo. E soprattutto ho saputo trasformare in punti di forza le mie difficoltà. La cosa che più mi ha dato la scuola, il liceo, è stato proprio il metodo di studio, che qualsiasi cosa voi vogliate fare è fondamentale. In primis la Setti-Carraro mi ha lasciato le amicizie, perché i legami che ho stretto fra i banchi durante quegli anni sono ad oggi le mie migliori amicizie e questa, secondo me, al di là di tutto è una cosa bellissima. Ho lasciato, fra le altre cose, anche delle capacità di organizzazione del tempo e un metodo di studio che è quello che vi permette adesso di lavorare e studiare, appunto, contemporaneamente. Il mio percorso da studente liceale è stato un buon percorso, lo ricordo con piacere, lo rifarei, legato a doppio filo all'altro mio percorso, alla formazione musicale. Inoltre ci sono dei professori molto abili che mi sono stati dietro non solo dal punto di vista didattico, ma anche umano. Conservo dei ricordi bellissimi del mio periodo del liceo e la Setti-Carraro è per me innanzitutto un posto di persone, di rapporti e questo è stato fondamentale per formarmi sia come studente e poi sicuramente anche come persona. Ciao, sono Olivia, sto per laurearmi in filosofia e ho frequentato il liceo classico Emanuela Setti-Carraro dalla Chiesa dal 2012 al 2010. Ritengo utile sottolineare come, al di là di tutte le nozioni di tipo umanistico che ho potuto accumulare nel percorso liceale, ciò che maggiormente mi è rimasto è senz'altro una grande capacità critica e di analisi verso tutto ciò che mi circonda, che ritengo essere molto utili per lo studio di qualsiasi disciplina, ma anche per muoversi consapevolmente nel mondo contemporaneo. Quindi questo liceo mi ha dato tanto e spero che possa dare tanto anche a voi se sceglierete questo indirizzo. Un abbraccio e buona scelta! Cosa posso dire? Vi consiglio candidamente di andare a visitare questi luoghi in modo che possiate rinnamorarvene anche voi. Cosa posso dire?